Sventola in alto il nome di Caltanissetta ai campionati europei giovanili di pesistica che si stanno disputando a Raschin in Polonia. Il pesista nisseno Claudio Scarantino è riuscito a salire sul podio conquistando il terzo posto che gli è valso la medaglia di bronzo nella categoria del sollevamento fino a 61 chili. Quella di Scarantino è la terza medaglia ottenuta dalla squadra italiana a questi campionati europei. Scarantino ha sollevato complessivamente 239 chili, brillando sia nello strappo che nello slancio, riuscendo a sollevare 109 chili nella prima prova e 130 nella seconda. In quest'ultima purtroppo ha pesato un errore nel terzo tentativo quando l'atleta nisseno ha provato a sollevare 133 chili. In ogni caso un risultato di prestigio per l'atleta nisseno è arrivato dietro al greco Costantino Slampridis, vincitore dell'oro con la misura di 249 chili, e al polacco Herbert Pirzark II con 248 chili.